Siamo alle pagine sportive per questo 8 agosto, l'apertura del Corriere sulla Team Cup e sui riflessi per le tre squadre Umbre. Due sono uscite, l'altra è andata avanti, il Perugia, ma arrivano segnali di acquisto. Perché? Perché a Terni servono rinforzi di categoria. Anche Giunti attende per il salto di qualità. Gubbio Key con un'altra punta e un difensore. Questa è l'analisi di Luca Mercadini. Poi nel dettaglio le pagine dedicate a ciascuna delle tre squadre. Il Perugia, Giunti, sono soddisfatto, dice il tecnico perugino contro il Gubbio. Era una gara a rischio, dobbiamo conoscerci meglio. A Benevento vedremo lì che pasta siamo fatti. Mancavano del prete di Carmine Mustacchio, spero che arrivi il terzino sinistro per il via del campionato, che ricordiamo sarà 26 di agosto. Intanto Colombatto, Paiac e An oggi in campo. È fatta finalmente, dovremmo dire, dopo una telenovela durata tutta l'estate per il centrocampista di proprietà del Cagliari. Lo scorso anno a Trapani, ma arrivano anche gli altri due stranieri. Continua il pressing per il 19enne Rogerio della Juventus. In Coppa si gioca sabato alle 20.30 al Vigorito di Benevento. Ed è un remake della semifinale play-off dello scorso anno che sorrise ai campani, poi promossi in Serie A. Casa Ternana. Pokesci non condivido la preoccupazione che c'è. Non saremo da vertici, ma nemmeno inadeguati. Come dice qualcuno, parla il tecnico dei Rossoverdi, dopo la sconfitta col Trapani, il gruppo ha bisogno di tempo per crescere. Intanto per Finotto è arrivata l'ufficialità. Oggi quella di Candellone, ex Gubbio, atteso da questa nuova esperienza a 20 anni in Serie B. Ci permettiamo di dire che è un bel colpo per la Ternana. Defendi con il Trapani, meritavamo di più. Bene la prestazione, scontento per il risultato. E poi siamo a Gubbio. Cornacchini applaude il suo Gubbio. Poco cattivo, ma la strada è giusta. Il tecnico analizza il cappato del Curi. Peccato non aver approfittato di situazioni favorevoli. Intanto attenti a Conti e Ricci, due ragazzi terribili, uno del 98 e l'altro del 99. Complimenti anche da Giunti, che dice che sono un valore aggiunto. Intanto per il mercato, Papponi alternativa regolanti per la seconda punta. Turrin alla Reggina, dunque il secondo portiere del Gubbio, è passato ad altra squadra. Per la promozione assisi da playoff, cresciamo pure i giovani. Il patron Gasparini è carico, subito pallone al via alla preparazione per i ragazzi di Rubeca. Sempre tra i dilettanti, il Corciano in promozione. Calcio senza assili, salvezza anticipata e stop. Il presidente Trastulli non fa voli pindarici. Mister Riberti dice niente sconti. E siamo alla boxe, campionati dell'Unione Europea Azzurri. Testa e Floridia in semifinale. Medaia di bronzo già assicurata per le due atlete di Renzini. Per il tennis, Simone Menichetti fa centro a Gualdo Tadino. Mentre per il basket c'è coach Piselli alla guida del Perugia. Il nuovo tecnico avrà Boccioli al fianco. E Sanzone guiderà l'UBS Foligno, sempre nel basket. Mariani Foglietta, i secondi. Siamo al volley. Sara Giuliani schiaccia per San Giustino. Il mio sì è stato immediato. Lasciamo il Corriere dell'Umbria. Andiamo alla Nazione. Giunti dalla carica ai suoi. Perugia più coraggio, dice il tecnico. I biancorossi devono raffinare gli automatismi. Intanto riprendono gli allenamenti. Sabato sera la trasferte. Dal Cagliari ecco due centrocampisti e un attaccante. Dalla seconda pagina a Ternana ecco i rinforzi in attacco. Firmano Finotto e Candellone. Quest'ultimo ovviamente dal Torino. E poi grandi manovre di mercato nel volley. Obiettivo per tutti la migliore squadra. E poi Lucky Wind Foligno. A proposito di basket in questo caso la prima squadra affidata a Sanzone. e Luca Filipponi sarà il favorito alla Spoleto nella tappa dell'Umbria. Tennis, Grand Prix, Satiri, Auto. Chiudiamo con il messaggero. Il Perugia cala il Tris. E in questo caso è il Tris di mercato. Colombatto sabato allo stadio saluta Cagliari da Facebook. Accetta il grifo. Ieri la firma. Ufficializzato anche il 24enne croato Pajak. L'attaccante nordcoreano Song Han Song. Con i nomi nordcoreani e anche sudcoreani. Non sappiamo mai esattamente quale sia il nome e il cognome. Pronunciamolo tutto. Han Quang Son. Così non ci sbagliamo. Nel derby con il Gubbio lo stadio. Intanto è tornato pulito. Dopo un servizio del messaggero che aveva lamentato scarse pulizie nella prima del Curi con la spalla da parte del Perugia. Giunti avanti così col Benevento. Sarà un rimettersi in gioco. A Terni, Fere, voglia di riscatto. Dopo il debutto flop col Trapani. Poccheci vede il bicchiere mezzo pieno. La squadra mi è piaciuta. E anche Terni riscopre la grande passione per il biliardino. A Cospea si sono svolti i campionati provinciali. Vinti dai Cosmopolitan in movimento in forte crescita. Foligno. Foligno. L'attacco funziona. Dopo la prima uscita con il Massa Martani. Falchetti hanno mostrato varie soluzioni. In campo tre attaccanti oppure tre quartiste e due punte. Da registrare la difesa. Con Petterini nell'urolo di centrale. Potrebbero arrivare rinforzi sugli esterni. Da Spoleto invece Monini scatta la preparazione per la 2 di pallavolo. Promozione. Missione. Possibile. Infine da Trevi per il volley. Lucky win gran fruttato. Arriva il libero. Chiara. Rumori. E noi ci fermiamo qui con la nostra rassegna di questo martedì 8 agosto. Che andrà in replica fino alle 11. Potrete ascoltare il radio su RGM alle 8.30. E ritrovare più tardi nel nostro sito. L'informazione torna alle 13.30 con la replica del TRG Plus. Il bilancio di Gubbio Doc Fest. E dalle 19.30 tornano i nostri TG. Nella nuova scaletta. TG Comprensorio a seguire TG Provincia. E poi dalle 20.20 TG Comprensorio a seguire il TG Sport e il TRG Plus. È davvero tutto. TRGMedia.it per restare connessi a quello che accade nella nostra regione. Potete anche ricevere sui vostri portatili le news iscrivendovi all'account Twitter TRGMedia o anche al nostro profilo Facebook TRGMedia. È tutto davvero per oggi. Grazie e buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.